Borgia Film Festival, ecco siamo con la promotrice, la fondatrice di questo film festival Rosalba Fusto, ciao Rosalba come stai? Ciao, buonasera, benvenuto, sto bene, un po' emozionata ma è tutto regolare Bene Rosalba, allora raccontaci un po' tu dai di come hai organizzato questo Borgia Film Festival 2018 Allora, è stata molto dura quest'anno, hai visto le nuove normative sulla legge Gabrielli per l'organizzazione di eventi pubblici È stata molto dura quest'anno però ce l'ho fatta, sì sì, adesso sono molto soddisfatta Adesso abbiamo appena iniziato la prima serata di questa settima edizione Siamo freschi freschi, allora dici qualcosa della tra poco ospite che arriverà tra poco, ecco, Laura Torrisi Tra poco avremo una bellissima donna, ragazza ancora molto giovane, Laura Torrisi E che avremo il piacere di accogliere nel nostro favoloso pubblico di Borgia, sì sì Allora, ci sono altre due tappe, diciamo che il Borgia Film Festival si apre con queste tre tappe Questa sera è la prima, poi? Allora, poi, vabbè, iniziamo tra poco con i cortometraggi E anche, vabbè, fatti quest'anno l'elemento, come gli altri anni, il Cardin è appunto il concorso internazionale di cortometraggi Questa sera avremo i primi tre in gara e poi domani avremo attesissimi ospiti Maurizio Mattioli e Ricky Memphis Per procedersi l'ultima serata delle premiazioni con la comica attrice napoletana Elena Russo Io ti posso dire una cosa, che per il prossimo anno mi presenterò pure io con un cortometraggio Certo, è un piacere, perché no? Ci sono anche alcuni cortometraggi qua del sud, anche perché per promuovere le nostre terre, i nostri giovani È una cosa bella Allora, se io dico in bocca al lupo, tu non devi dire crepi il lupo Sì, devo dire grazie No, lunga vita al lupo Lunga vita al lupo Lo salva Pusto, è quella che arriva Con il suo studio alto, non per accompagnarla E dopo questa gravi alta, si prepara ad avvicinarsi del suo paese, della sua gente Il suo orgoglio, la sua borgia E va di testa così, in tutto il suo affetto E la sua ammirazione Lo salva Pusto, è quella che arriva Anche lei, fa il giro, vai, in tutto Parte la città, il suo rientra E arriva, arriva, un applauso per la nostra, lo salva Ecco la cosa che arriva, sì Ricorda? Certo che me ne ricordo Primo giovedì del mese Dove? Sempre a Leondoro Sempre alle nove? Esatto Rossi, vada Rossi? Sì? Dimenticavo Stasera è sua turma